Buongiorno, buongiorno, oggi è lunedì 21 settembre, la segna stampa in breve di video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo sereno su gran parte del territorio alto tesino, una notizia delle ultime ore, intervento dei vigili del fuoco ieri a Vilpiano intorno alle 21 per una fuga di ammoniaca all'interno di un magazzino di frutta evacuata, una famiglia di una casa poco distante, gli altri abitanti di Vilpiano sono stati invitati a chiudere le finestre nel giro di un paio di ore, la situazione è ritornata alla normalità, a scopo precauzionale due persone sono state accompagnate all'ospedale per una serie di controlli, Mohamed Almasmoudi in regia, diamo con lui un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo a Genedicola, l'Alto Adige dedica la sua prima pagina alla cronaca nera con la tragedia della scorsa notte a Favogna, la vittima è Dietmar Ferrari, 45 anni, con la sua macchina si è schiantato contro un albero Adegna la chiesa avvolta nella bandiera germanica a Laghetti di Enia, la chiesa è stata impacchettata dal ditta che sta eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione, Bressa si rivolge al sindaco Spagnoli, non mollare, le elezioni sono da evitare e poi a Merano celiaci e vegani, così cambia il menu a scuola, la medicina dei clown per i bambini insieme a Peppa Pig ieri hanno visitato i pazienti in pediatria, la cronaca linguatresca a cura del quotidiano Dolomiten e gli studenti, gli studenti che hanno ricevuto le borse di studio in alcuni casi devono versare alcuni di questi soldi al fisco e poi i rischi, i rischi per coloro che decidono di farsi un tatuaggio, tutto quello che c'è da sapere è raccontato a pagina 7, il grande successo per la festa dell'Eureggio Adal in Tirolo, oltre 5.000 persone hanno preso parte a questo avvenimento, è tutto, vi ringrazio come sempre per aver scelto anche oggi l'informazione di Video33.